Il futuro del turismo veneto passa dalla sinergia tra le realtà locali. In occasione della nomina di Venezia del Nord-Est, quale capitale della cultura 2019, il Veneto si interroga sugli scenari futuri che potranno modificare l'approccio turistico alla nostra regione nei prossimi anni. E così oggi ad Altavilla Vicentina le massime cariche istituzionali del settore si sono riunite attorno a un tavolo per delineare gli sviluppi cui d'ora in avanti andranno inevitabilmente incontro le politiche di attrazione per visitatori dall'Italia e non solo. Obiettivo primario è alleggerire il carico dei punti di interesse stressati dall'afflusso di turismo, come la città di Venezia, potenziando alternative ancora poco conosciute per bellezza naturale, interesse storico-artistico o valore enogastronomico. Oggi ci confrontiamo con un turista sicuramente internazionale che vuole scoprire un territorio, conoscerlo, provare emozioni per cui dobbiamo proporre un turismo che sia di tipo esperienziale per cui sta a noi cominciare a comunicare in maniera integrata il nostro prodotto per cui Venezia è in un solo, cioè tutto quello che è intorno, cioè a partire dai nostri bellissimi Dolomiti fino ad arrivare al mare e appunto cominciare a fare un lavoro sinergico e di rete. La rete dunque sembra la risposta giusta per realizzare i progetti in cantiere come quello di valorizzare ulteriormente il peso del Veneto sulla spesa media dei visitatori esteri, attualmente al 23% sul complessivo nazionale, pari a 6,6 miliardi di euro su oltre 29 totali. E così se si dovesse confermare il trend d'aumento nelle visite alle precedenti capitali della cultura, ciò inciderebbe con un più 14 mila visite annue, in grado ovviamente, se ben accolte, di rilanciare il prodotto nord-est sulla spesa turistica nazionale. È una questione di visione, ecco io credo che ci si debba stringere intorno a una visione e una volta tanto mettere un po' da parte gli individualismi e lavorare per un obiettivo comune, perché questa idea della macro-regione è un'idea straordinariamente innovativa anche per le iniziative di questo tipo.